La ragazza è l'ufficiale anticipazioni della prima puntata della nuova serie turca tratta da una storia vera in onda in prima serata su canale 5 a partire da venerdì 9 giugno vediamo quindi le anticipazioni della prima puntata siamo a grodno in bielorussia nel 1915 sul fronte russo della prima guerra mondiale il nostro protagonista se it eminoff detto il lupo è capitano di un battaglione russo dello zar e sta scrivendo un rapporto su pedro un suo soldato e amico che ha sparato disobbedendo agli ordini e ha ucciso un suo compagno se it dopo le sue insistenze accetta di non denunciarlo ma lo obbliga alle dimissioni dall'esercito insieme poi si recano a casa della vedova del soldato lasciandogli dei soldi per continuare a vivere la scena si sposta poi su sura la nostra protagonista femminile una bella ragazza bionda figlia di una nobile famiglia russa che sta per affrontare il suo primo ballo nell'attesa parla con la madre e il padre e si scopre che il padre ha una brutta malattia ma lui la invita a godersi la serata visto che anche la guerra è alle porte se it intanto è a pietro grado siamo nel 1916 e anche lui si sta preparando per andare allo stesso ballo di sura al ballo ci sono diversi commelitoni e petro che sta cercando di abituarsi alla sua nuova vita senza uniforme dopo aver scambiato diversi saluti se it si avvicina alla baronessa i due si salutano con complicità e se it la informa che andrà a combattere in crimea ma prima passerà a salutare la sua famiglia mentre sura sta per arrivare al ballo i commelitoni lanciano a se it una sfida baciare la prima donna single che entra nella stanza se it accetta la sfida e in quel momento sura entra nella stanza sarà lei la donna che se it dovrà baciare se it ne rimane incantato e la guarda a lungo uno sguardo ricambiato ma petro lo batte sul tempo e va a salutare la ragazza che conosce perché figlia di un amico di suo padre per tutta la durata della serata i due si guardano a lungo ma non si presentano mai il giorno dopo se it va a trovare i genitori dove ci sono anche i fratelli e le sorelle e va accompagnato dai suoi compagni d'armi e petro mentre sura e sua sorella si recano ospiti di una famiglia di amici proprio vicino a dove si trova la tenuta di se it si trovano lì per assistere il padre che verrà operato all'ospedale vicino sura continua però a pensare all'incontro con se it nonostante ci sia stato solo un fugace incontro di sguardi la ragazza non riesce a dimenticarlo se it dal canto suo passa il tempo con i fratelli i genitori e i commilitoni prima di partire per il fronte una sera si trovano tutti a fare il bagno di notte e tra momenti di risate e scherzi la testa non fa altro che andare al fronte si promettono se torneranno vivi dalla guerra di ripetere il bagno notturno e si incoraggiano a vicenda il giorno dopo se it parlando con suo padre gli chiede se c'è qualche ragazza che lo aspetterà al ritorno dal fronte lui risponde di no il padre lo ammonisce che può avere gli amici che vuole ma deve sposare una ragazza turca il discorso è ascoltato da petro il giorno dopo il gruppo lascia la casa dei genitori di se it e dopo i saluti di rito si fermano a cena dalla famiglia che ospita shura e sua sorella appena arrivati shura vede gli altri commilitoni ma non se it che arriva poco dopo con due bottiglie di vino della sua tenuta per i padroni di casa i loro occhi si incrociano ed entrambi sono stupiti ed emozionati di rivedersi per la prima volta quindi se it e shura hanno modo di presentarsi ufficialmente lui le bacia da mano e si guardano intensamente negli occhi durante la cena tutti organizzano un'uscita tutti insieme per il giorno dopo se it e shura sono timidi nell'approcciare soprattutto lei sembra molto in soggezione con lui se it cerca di farla parlare e le chiede di chiedergli qualcosa lei timidamente gli chiede perché è soprannominato il lupo lui le racconta che quando era piccolo piangeva sempre e produceva un suono simile all'ululato del lupo si diceva anche che i bambini piangessero per la paura del lupo e che solo chiamandoli lupi vincessero questa paura rientrate a casa se it e shura si danno appuntamento per il giorno dopo dove ci sarà uno spettacolo teatrale al quale lui la accompagnerà poi petro chiede di parlare in privato con se it e gli comunica di aver saputo in che fronte sta per essere mandato si tratta della galizia dove si troverà a combattere l'esercito ottomano la sua stessa gente questo perché se it originario della crimea era sì in territorio russo ma è composta prevalentemente da gente di origine turca così come la famiglia di se it questa notizia sconvolge se it che prega a dio di non dover combattere i turchi ovvero i suoi connazionali il giorno dopo è il momento dello spettacolo teatrale ma se it non si presenta e manda un telegramma shura dove dice che non sarà presente allo spettacolo perché lo zar lo ha mandato a chiamare shura ci rimane molto male e ne approfitta petro che la accompagna al suo posto a metà spettacolo però si presenta se it entrando direttamente nel palchetto del teatro che era stato a lei assegnato le si siede vicino si scusa per il ritardo la guarda intensamente e le dice che potrebbe guardarla così per sempre in quel momento torna petro che si era momentaneamente assentato dal palchetto interrompendo l'idiglio della coppia successivamente tutti si recano al ricevimento che segue lo spettacolo teatrale qui la baronessa quella che avevamo conosciuto a inizio puntata e che aveva salutato se it si mostra gelosa di shura avendo da sempre avuto un debole per se it e una relazione con lui si avvicina quindi a shura e le lascia intendere di conoscere approfonditamente il tenente se it poco dopo se it e shura finalmente riescono a rimanere da soli e in un momento molto intenso si scambiano un bacio sulle labbra e lui le dice che sono settimane che lo desiderava e che vorrebbe tenerla tra le sue braccia per sempre richiamato dai suoi commilitoni per un brindisi se it torna nella sala grande e chiede a shura di aspettarlo la ragazza nel frattempo viene avvicinata nuovamente dalla baronessa che la mette in guardia da se it lui ama giocare con le donne e l'ha baciata solo per una scommessa shura sconvolta entra nella sala e guarda da lontano il tenente che a sua volta la guarda negli occhi accorgendosi che qualcosa non va finisce così questa prima puntata della ragazza e l'ufficiale vi ricordo che questa sop turca è composta da due stagioni per un totale di 21 puntate della durata di oltre due ore al momento canale 5 ha deciso di trasmetterle in prima serata il venerdì sera vedremo se la programmazione continuerà così io sono stefania e come sempre vi mando un abbraccio e vi aspetto nei commenti perché vorrei tanto sapere che ve ne sembra di questa serie se la seguirete e se volete che continuiamo a trattarla nel nostro canale un abbraccio e a presto